Continuano a Pordenone i grandi lavori di riqualificazione e ammodernamento delle strade. Conclusa in particolare l'asfaltatura di due arterie fondamentali, Via Nuova di Corva e Viale Treviso. A parlarne l'assessore alla mobilità Cristina Mirante. Si tratta di due interventi che la città aspettava da più di vent'anni, così come è successo per Via Montereale, anche in Via Nuova di Corva e in Viale Treviso abbiamo non soltanto riasfaltato, non si tratta di una mera manutenzione, abbiamo proprio rifatto buona parte della strada, quindi è stata un'operazione di ripristino e di nuova asfaltatura che ha reso finalmente sicure due arterie principali di accesso alla città. Via Capuccini invece ha in corso la creazione di un murales artistico ispirato al fiume Noncello. È un intervento bellissimo perché si tratta di un murales che va a rappresentare quello che è di fatto l'obiettivo principale che il progetto di Via Capuccini aveva, ovvero di portare al depuratore le acque fognari, le acque degli scarichi fognari delle abitazioni per rendere il nostro fiume finalmente di nuovo pulito. A volere l'intervento di street art è stato il sindaco Alessandro Ciriani. Via Capuccini è ormai completata, un'opera bellissima che è il murale orizzontale, quindi sul marciapiede, ma soprattutto la piantumazione degli alberi, dei fiori e delle altre piante che abbelliranno quel contesto che è stato oggetto legittimamente, per amore di Dio, di tante critiche. Le critiche arrivano quando si lavora, se non si fa niente le critiche non arrivano. Ma quella strada adesso ha acquedotto, captazione acometeorica, le fognature, rieverà gli alberi, i fiori e avrà anche un'opera d'arte autentica, moderna, realizzata tra l'altro da tre giovani artisti. Ed è tra l'altro un format che potremmo replicare anche in altre parti della città.